Dimonio non lo rimembro. Rinverrò mai lo verbo d'ordine. So che son d'urgenza! Dai, non restare nel passato! Ci pensa la tua Tech Princess! Sorridi! Et voilà! Facile! Con il riconoscimento facciale di Windows & Low. Scoprilo nei PC moderni Windows 10. Or su un thai su MediaWorld.it Che novella!